Buonasera, qui c'è Edi? Sì, sono Edilberta Dejana Mameli, mi trovo all'isola di Capraia, di fronte al mio negozio in paese. Un altro negozio, sempre a Egilon e al Porto, di fronte alla banchina delle barche. Cosa proponi per questa Saga del Totano 2024? Allora, la Saga del Totano 2024, propongo delle creazioni esclusive che ho disegnato io, seguita la lavorazione, di molte cose. A incominciare dai gioielli, ho disegnato la totana, che è questa qua. Ah, è un pesalino. Sì, la totana femmina, perché solitamente c'è sempre totano al maschile. E invece io, già tempo fa, avevo disegnato la totana cuoca, che serviva a una spaghettata di totani. Ottimo. Sempre in tema culinario, diciamo. Sì, sì, sì. Con le ricette, chiaramente, dei pescatori isolani, delle mogli dei pescatori, interviste durate addirittura anni per poter raccogliere tutto il materiale. Però poi da lì nasce la voglia di fare questa femmina cuoca, che è una totana, e che fa lei da mangiare. Questa è la storia. Poi che cosa ho prodotto per il Totano 2024? Una serie di disegni, sempre del totano, meglio dire calamari, su Batik, con le tecniche originali del sud-est asiatico. Passate una volta. Sì. Va bene, allora ti saluto e ci vediamo alla Sagra. Certo, e speriamo che sia un bellissimo tempo come ora, così i turisti sono felici e tutti ci divertiamo e lavoriamo. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie.